Senza Bavaglio si vuole occupare di una situazione particolarissima che riguarda Taranto, che riguarda i dipendenti delle ditte dell'appalto dell'AMAT per quanto concerne la pulizia sugli autobus, sui mezzi dell'AMAT di Taranto. Parliamo di una realtà di miseria, quella tarantina, una disoccupazione ed una inoccupazione dilagante, non solo, ma quel po' di lavoro che c'è, quel poco poco poco, viene sempre più ridotto ai minimi termini, va a ridursi in misura e in maniera esponenziale. Pensate un po', e andremo nel dettaglio, che questi dipendenti delle ditte addette alla pulizia per quanto riguarda i mezzi dell'AMAT si vedranno, questo è il rischio altissimo, vedranno ridotta la loro giornata lavorativa da 5 ore a 2 ore, il che significa che questi poveretti porteranno al mese, sì e no, 300 Euro. Poi andremo a capire meglio, perché immaginate voi un lavoratore che percepisce 300 Euro al mese per 2 ore al giorno, tolti i soldi della benzina per andare sul posto di lavoro, il parcheggio e quant'altro, ditemi quanto ribane a questa gente? 150 Euro? 200 Euro? Si può vivere in questa condizione? Mi sembra che siamo veramente all'assurdo. Ma raccontiamo i fatti. Sappiamo del fallimento della ditta Ancora e la ditta Ancora si trova infatti in liquidazione coatta amministrativa. Già circa 7-8 mesi fa siamo calati a bomba su questa situazione, cioè praticamente l'AMAT ha predisposto un bando di gara in cui praticamente il monte ore per le ditte, per la ditta che doveva realizzare appunto il servizio di pulizia scendeva, questo monte ore, da 42 mila ore a 24 mila ore. Il che ovviamente poneva un'alternativa. O licenziamo del personale o riduciamo ovviamente il numero di ore dei lavoratori. Quindi si passa da 42 mila a 24 mila. Si deve stringere? Si stringe. E uno, come si suol dire, si toglie un dente. Con dolore, ma se lo toglie. Da 42 mila a 24 mila. Si fa la gara, vince una ditta di Catania, perché poi noi ovviamente massimo rispetto, ma noi siamo sempre esterofili, viva lo straniero, l'erba del vicino è sempre migliore, ma lasciamo perdere. Sapete cosa dice questa ditta? 24 mila ore? No, me ne bastano 16 mila. Allora, se io riduco da 24 mila a 16 mila, due sono le cose. O devo lasciare il numero intatto, le 5 ore lavorative, il numero di ore non lo riduco, ma riduco il numero dei lavoratori. Quindi, se prima, detto in parole povere, mangiavano 10 bocche, ora ne mangeranno solo 5 e avranno sempre le 5 ore di lavoro. Oppure, e questa è l'ipotesi peggiore, facciamo lavorare sempre tutti, quindi non licenziamo nessuno, ma affamiamo questi lavoratori e facciamo scendere la loro giornata lavorativa da 5 ore a 2 ore. Quindi, lo ripeto, così si capisce meglio. O tagliamo, riduciamo il personale del 30-40%, quello che sia, non lo so, la percentuale, oppure, molto semplice, riduciamo a 2 ore. Ditemi voi, oggi, in una realtà di crisi, come fa un padre di famiglia, monoreddito, ad andare avanti con 300 euro? Perché poi togliamo, ho detto, le spese di benzina, di parcheggio e quant'altro, sì e no, arriviamo a 150-200 euro. Ma vale la pena? E qui emergono le responsabilità, perché certe scelte, certe cose assurde che vengono proposte dovrebbero trovare un freno, un freno forte nell'amministrazione comunale, nel sindaco, nell'assessore a ramo alle politiche del lavoro, Francesco Cosa, il sindaco di Pazio Stefano, per pochi mesi ancora, grazie a Dio, e poi vi sono anche le responsabilità politiche, chiamiamole così, gestionali del presidente dell'AMAT, ossia Walter Poggi. Allora vi domando, Poggi, ma tu andresti a lavorare per due ore al giorno? Poggi, ti piacerebbe vedere ridotto il tuo monte ore da 5 ore giornaliere a 2? Sicuramente no, perché credo che tu sia una persona di buona volontà, lo sei, certamente. Però cosa fai, caro Poggi, per bloccare questa situazione? Numero uno, responsabilità del management dell'AMAT, responsabilità dell'amministrazione comunale e del sindaco, perché l'AMAT, i vertici dell'AMAT, signori cari, come quelli dell'AMIU, non vengono nominati dallo Spirito Santo, non si trovano lì per grazia ricevuta, ma vengono nominati dal sindaco, dall'amministrazione comunale e quindi eventualmente c'è una colpa ineligendo, una scelta sbagliata nel nominare soggetti che evidentemente tollerano che si passi da 24.000 a 16.000 ore. E l'assessore alle politiche del lavoro, Francesco Cosa, cosa dice? Cosa, scusate il bisticcio di parole. Caro Francesco Cosa, io capisco che tu non vuoi perdere voti perché siamo in campagna elettorale, ma non puoi dire che la responsabilità è solo dell'AMAT e non la nostra, perché, torno a ripetere, il presidente dell'AMAT, Walter Poggi, è stato nominato dal sindaco, dall'amministrazione comunale, voi avete le responsabilità e tu, caro Francesco Cosa, cosa aspetti a bacchettare, in senso metaforico, il presidente Poggi? Attaccalo sul piano dialettico e dei contenuti frontalmente, non è concepibile che tu ti scarichi delle tue responsabilità dicendo che è una scelta dell'AMAT, vai dall'AMAT e tira le orecchie, sempre in senso metaforico, appoggi caro Francesco Cosa. Francesco Cosa, assumiti le tue responsabilità, perché questa frittata, frittata schifosa, perché la frittata è buona quando ci metti le uova, la mortadella, il prezzemolo, ma questo è uno schifo, è uno schifo che da 24 mila ore si passi a 16 mila ore, è uno schifo che il lavoratore da 5 ore passi a 2 ore e allora, signori cari, di questa situazione avete piene responsabilità e pari responsabilità, sindaco, assessore alle politiche del lavoro e presidente dell'AMAT, questa è la realtà. Insomma, si sta parlando, poi non lamentiamoci, io condanno le forme estreme, ma io mi devo anche immedesimare in quei poveri disgraziati che la mattina si barricano dinnanzi a Palazzo di Città sul ponte, va condannata ogni forma estrema di protesta, però mettiamoci nei panni di un padre di famiglia che si ritrova con 150-200 Euro netti al mese. questa è Taranto, questa è Taranto e forse, non voglio essere disfattista, ma se le cose continuano così bisogna prendere il trolley, una volta esisteva la valigia di cartone e andare via, perché vedere un lavoratore ridotto a 2 ore al giorno è uno schifo, neanche in Cina succedono queste cose. Capito Ezio Stefano? Capito Francesco Cosa? Capito Walter Poggi? Meditate cittadini, meditate! Senza bavaglio, informazione libera, sempre!